Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come farlo per parlare tra di loro gli animali Come fa il cane? Il gatto? L'anzello? La mosca? La rama? La pecora? E il coccodrillo? E il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si dice mangi troppo, non metta mai il cattoppo Che con i denti funga, che molto spesso pionga Però quando è tranquillo come fa il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si arrabbia ma non strilla, sotteggia camomilla E mezzo addormentato se ne va Guarda sui giornali, non c'è scritto niente Sembra che il problema non importi alla gente Ma se per caso al mondo c'è qualcuno che lo sa La mia domanda è ancora questa qua Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si dice mangi troppo, non metta mai il cattoppo Che con i denti funga, che molto spesso pionga Però quando è tranquillo come fa il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si arrabbia ma non strilla, sotteggia camomilla E mezzo addormentato se ne va Adesso rifiutiamo se vogliamo ricordare Come fanno per parlare tra di loro gli animali Come fa il cane? E il gatto? L'asinello? La mossa? La rama? La pecora? E il coccodrillo? E il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si dice mangi troppo, non metta mai il cattoppo Che con i denti funga, che molto spesso pionga Però quando è tranquillo come fa il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si arrabbia ma non strilla, sotteggia camomilla E mezzo addormentato se ne va Avete capito? Come fa il coccodrillo? Lui va già addormentato se ne va